Buongiorno a tutti, eccoci qua di nuovo. Oggi abbiamo uno stimolo carino. Un ragazzo che ci scrive questa cosa qui che vi leggo. Bla bla, sono, ciao, presentazione, eccetera. La domanda è, prima di essere invasi, gli hawaiani erano all'apice dell'armonia, della felicità, della connessione su tutto, compreso natura, cose e animali. Quindi mi chiedo, con la vibrazione così alta a livello energetico, perché si sono attratti gli spagnoli e tutto il susseguirsi di eventi che hanno permesso di perdere terra, cultura, lingua e religione? Ecco, questa è la domanda di Alessio che appunto ci scrive. E io, molto sinteticamente, riservandomi appunto con Rudy e Francesca di fare un'analisi un po' più approfondita, gli ho risposto telegraficamente così. Questa stessa domanda la posto a una ragazza, alla sua nonna, Nakamaoli, nativa hawaiana? E la risposta è stata, più o meno, solo in questo modo la cultura hawaiana e la sua saggezza hanno potuto espandersi in tutto il mondo, le braccia di Aloha a abbracciare tutti coloro che vogliono far parte di questa hawaiana. Ed è una risposta che mi piace molto. Poi concludevo, in quanto allo spunto di riflessione per un video, domani mi incontro con Rudy e Francesca e lo propongo. e quindi l'abbiamo valutato e abbiamo deciso che può essere un bel tema. Adesso non mi ricordavo esattamente i termini di questa risposta, però mi ricordo proprio che era una cauna che parlava con la sua nipote, però sapete che... Non è nello che sia di sangue. Esatto, sono maestri, discepoli, eccetera. Ma proprio le dava questa risposta, cioè le diceva questa è una grande opportunità per l'umanità, perché noi abbiamo una cultura che può essere risolutiva in tantissimi ambiti, però gli hawaiani sono pochi. Me la ricordo proprio bene questa cosa. Cavolo, non mi ricordo chi l'ha detto, però me la ricordo proprio bene. e lei diceva che gli hawaiani sono pochi e in pochi si fa poco. La vita probabilmente ha visto anche nelle disgrazie che sono capitate al popolo hawaiano, perché il popolo hawaiano ha una storia tragica di tutto rispetto, ha visto l'opportunità e ha dato anche al popolo hawaiano gli strumenti per sviluppare questa opportunità, di portare determinate consapevolezze in tutto il mondo. Le consapevolezze della tradizione hawaiana di fatto sono le stesse consapevolezze che troviamo negli aborigeni, in certi popoli dell'Africa, negli Andini, insomma un po' dappertutto le consapevolezze fondamentali sono quelle. La cosa bella della cultura hawaiana e forse un po' anche la motivazione che ci ha portato a innamorarci, almeno noi tre, di questi insegnamenti, è proprio la semplicità, il fatto che sia così diretta e libera da sovrastrutture. Ecco, la storia della tradizione hawaiana è proprio quello che ha permesso alla saggezza hawaiana di sopravvivere agli eventi in maniera diretta, semplice e immediata. Infatti gli insegnamenti della cultura hawaiana sono diretti, sono semplici, non hanno frontoli, non hanno sovrastrutture, non hanno niente di quello che non serve. Questo perché? Perché, vabbè, la storia poi probabilmente chi ci segue la conosce, la storia e gli eventi hanno consentito, grazie a una grande ispirazione, mi piace pensare, ai kauna hawaiani di blindare le loro conoscenze a un certo momento della storia che varia tra il 1200 e il 1400 d.C. in quel momento, quando le isole Hawaii sono state invase, gli hawaiani avevano quella cultura, quelle conoscenze di cui parla questa nonna, molto potenti, molto dirette e molto su misura per l'essere umano. Tuttavia sono stati invasi, questo no perché erano cattivi, brutti e si meritavano di essere bastonati, ma probabilmente proprio perché avevano un qualcosa che serviva all'umanità e se fosse rimasto così come era, probabilmente come tante altre culture, perché l'abbiamo visto un po' in tutto il mondo, sarebbe andato disperso. Invece così sono stati costretti costretti a blindare delle conoscenze e a cristallizzarle in maniera semplice e diretta. L'hanno fatto con tutta una serie di modalità, se qualcuno di voi ha voglia di leggersi il nostro librone umana, lì ci ha raccontato per bene tutto, ma sono riusciti a blindare le loro conoscenze e a traghettarle integre a noi. Quindi le difficoltà poi che il popolo hawaiano ha subito in qualche modo, in realtà sono difficoltà per il singolo, ma sono state opportunità per l'umanità. Perciò, come in tutte le cose, non esiste la polarità positiva e la polarità negativa in valore assoluto, ma dipende dal punto di vista da cui lo guardi. Quindi, anche chi ha subito determinate difficoltà, diciamo così, aveva però l'opportunità di costruire e di traghettare un tesoro per l'umanità, cosa che da parte di molti appunto è stata fatta e le conoscenze poi sono arrivate a noi integre, perché in tante altre culture le conoscenze sono le stesse ma sono molto sovrastrutturate, per cui è indispensabile scavare, capire, verificare, comparare. Ecco, la cultura hawaiana ha questo, che è talmente scevra da fronzoli, è talmente immediata e utile nel suo percorso, nel suo proporsi quello che la rende vera e la sua utilità che è anche facilmente, immediatamente realizzabile e utilizzabile. Questa è la bellezza della cultura hawaiana, è un po' forse quello che ci ha fatto innamorare a noi di questi insegnamenti, proprio perché sono così diretti. Se non avessero avuto questa storia, anche difficile, non lo neghiamo assolutamente, però se non avessero avuto questa storia, probabilmente, anzi sicuramente, non sarebbero giunti ai giorni nostri in maniera così integra, e soprattutto così disponibile, utile, a portata di mano, e comprensibile, e più che comprensibile, utilizzabile, perché comprensibile in realtà hanno le loro difficoltà, diciamo, come concetti, sono concetti che hanno la stessa difficoltà di tutti i concetti spirituali, però sono immediatamente usufruibili, anche non capendoli, che è una cosa grandiosa per l'utilizzo. E quindi, tutto sommato, anche la storia, che per il popolo huaiano è stata sicuramente difficilissima, ma come per tutte le popolazioni della terra, perché in quel periodo storico c'è stato uno tsunami che ha spazzato via tutto, probabilmente proprio perché avessimo la possibilità di ricostruire e di cogliere quello che era veramente importante, liberarlo appunto da tutte le sovrastrutture. Ecco, il popolo huaiano è riuscito a traghettare la sua consapevolezza già libera dalle sovrastrutture e questo, a mio avviso, è davvero bruscioso. Sì, non c'è molto da aggiungere a questo. Secondo me, sono due o tre punti di vista o precisazioni. Magari la domanda è molto carina e interessante anche da sviluppare. qualche inesattezza, non c'entravano gli spagnoli, magari parliamo più di Sud America o Centro America, eccetera. Non che cambi il concetto, perché il concetto poi è quello, giustamente. È vero, come in situ, è qualcosa che ha a che fare con tutte le tradizioni del mondo. È la stessa cosa che è capitata qualche tempo dopo e non troppo tempo fa, storicamente, anche in Tibet. Certo. Quindi, se parliamo anche di un'altra popolazione tra quelle che tu ti possa immaginare tra le più pacifiche del mondo, il Tibet è sicuramente quella. Cioè, hanno i lama, i templi, i monaci, e cosa mai si può conquistare, che senso potrebbe avere. Novo dice, i tibetani sono tra i popoli più pacifichi del mondo, molto simili, per molti aspetti, alle guaiate. Cioè, la tradizione tibetana noi sappiamo che ha un sacco di corrispondenze anche con la tradizione huaiana e guarda un po' anche nella storia. Secondo me ci sono diversi punti interessanti da sviluppare. Allora, prima di tutto, anche per essere precisi, nel momento in cui Capitano Cook, eccetera, sono arrivati, diciamo, nelle isole huaiane, non c'era sicuramente il massimo splendore della cultura huaiana. Perché se proprio, 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 siamo più precisi, erano già arrivati dopo, c'è stato il periodo guerriero in cui gli huaiani stessi in verità avevano cambiato la tradizione. C'è stato invasi probabilmente da Tahiti. Tahiti, che significa luogo straniero. Esatto. Ed erano già iniziati, quello era già iniziato il periodo lì e era iniziato il periodo dei guerrieri. quindi già quel tipo di tradizione huaiana che è in verità antica, antica come tutte le tradizioni del mondo, nel momento in cui è arrivato, c'è arrivato questo contatto con la tradizione occidentale, con la cultura occidentale, era già un altro tipo di cultura rispetto ai suoi massimi e i suoi migliori. non quella che viene raccontata nei libri da Las Casas piuttosto che dei missionari o altre cose della cultura diciamo mexica, messicana, i Toltechi che hanno una tradizione orale per lo più raccontano una storia molto diversa rispetto a quella che noi leggiamo in storia, ovviamente. Gli Astechi anche per loro erano ovviamente l'ultima popolazione arrivata lì ma non rappresentava l'apice della cultura tolteca che ad esempio non c'è. Loro arrivati lì c'era già appunto all'epoca dei sacrifici di sangue eccetera anche lì c'è probabilmente un po' meno da come ci viene raccontata oggi ma si sa che chi vince ti vince scrive libri di storia e quindi la nostra storia è sempre un po' alterata loro racconterebbero una storia un po' diversa però va bene mettiamo anche caso che c'era questa cultura ricca ma anche molto se vuoi cruente e guerriera loro lo dicono in effetti perché arrivati lì avevano un po' perso quelli che erano insegnamenti che ad esempio c'è il quadro della parte più illuminata quindi è un po' direbbero proprio che avendo perso un po' un sentiero guarda un po' hanno perso un po' la stessa cosa che direbbero che si direbbe anche in quella tradizione lì quindi guarda un po' c'è una sorta di ciclo che va a ripetersi e quasi quasi uno potrebbe dire quindi c'è stata anche una perdita di un certo tipo di tradizione un po' come succede anche come ci sono anche precedentemente anche nelle culture che noi conosciamo anche gli egiziani hanno avuto un apice e sono stati invasi poi dai romani nella parte finale se vuoi della loro cultura che aveva 4.000 anni però le cose più belle erano fatte 2.000 anni prima paradossalmente quindi ma se guardiamo anche la nostra cultura cristiana è andata così perché dal 300 in poi è stato sovvertito tutto pensiamo che la tradizione ellenica ad esempio che faceva un grande riferimento cioè dalla democrazia greca al medioevo c'è stato quasi un punto quasi un passo indietro invece rispetto a un passo in avanti come vedi è un ciclo che guarda un po' anche lì so che sto facendo un paradismo grande storico ma interessante anche Roma ha avuto un apice si è persa è stato invasi dai barbari per dire in questo caso noi siamo stati i barbari per i hawaiani siamo stati i barbari per i messicani e per gli aborigini e tutta una serie di culture quindi questo potrebbe essere anche una cosa interessante non abbiamo mai se guardi queste culture sono state invasi anche non nel loro apice nonostante che l'abbiano avuto e il cuore di quegli insegnamenti in verità poi guarda un po' è stato grazie a questo è stato anche espanso altrimenti non non sarebbe arrivato fino a noi come dicevi tu giustamente ma possiamo anche fare questo tipo di ricostruzione che è interessante e anche un po' ci insegna una cosa c'è un insegnamento in questo proprio nell'ultima cultura che noi abbiamo incontrato che ha subito questo torto che potrebbe essere proprio appunto quella tibetana che è l'ultima di tempo che ha subito qualcosa che uno direbbe ma perché poveri e in effetti poi da lì in poi abbiamo tibetani in giro per tutto il mondo che portano avanti la cultura bellissima che noi non avevamo mai conosciuto in un certo mondo e c'è un insegnamento in questo molto spesso queste culture vedi chi pensa in generale di poter chiudersi in un contenitore e proteggersi e isolarsi dal mondo attraverso una sorta di bolla comprende che non può essere fatto così tutto ciò che è vivo deve muoversi e cambiare e mutare come cambiano i soli le aeree in cicli in società perché se pensi di poter costruire qualcosa sopra e chiuderti dal resto del mondo non è possibile il mondo e l'universo non te lo permette non è possibile anche se si chiudi pensa questi qua sono nei posti dei montagni più alti del mondo i malai eccetera e anche dito chi viene a rompere le scatole ma pensa gli hawaiani che sono nel centro del pacifico in queste quattro isole grandi come un arancio e nonostante quello la domanda è questa ma ti pensi mai che uno deve venire fino a questo buco di isola a rompermi le scatole a me che ho solo le palme le banane e sto bene così e invece sì perché l'umanità come io vi ho conosciuto i vendai reiki che cavalcavano questo concetto l'umanità è una e ogni popolazione è una parte dell'umanità quindi isolarsi è come mi taglio un dito così e lo metto dentro il congelatore così no non è così che funziona esatto il Buddha il Buddha aveva ben assunto la vita è un ponte non puoi costruirci una casa sopra perché se ci costruisci una casa sopra avevamo già detto questa cosa in altri ambiti ma è lo stesso concetto allora hai gente che vuoi che non vuoi ti andrà fur per fur ti apri la porta e ti attraverserà la casa ogni giorno perché non lo puoi non puoi costruire non puoi non si può bloccare la coscienza non si può bloccare la cultura non si può bloccare una conoscenza non può essere presa e tenuta in un composto anche perché ognuno di noi volenti o nolenti siamo parti di un organismo esatto un organismo che si chiudiamo nella nostra casupola e va a finire che facciamo l'unfanti che presto tardi qualcuno viene abbossato nella porta ed è questo è inevitabile puoi solo fluire con questo flusso è come ogni tipo di tradizione cultura sopravvive chi è capace di confrontarsi chi poi questa cosa la porta fuori perché altrimenti muore e attraverso questo se guardi questa espansione che è inevitabile tutti oggi abbiamo la possibilità di connetterci di trovare delle connessioni di conoscere altre realtà che sarebbe stato impossibile altrimenti certo si poteva fare in altri modi sì assolutamente possiamo imparare da questo nel senso io tu noi magari l'avremmo fatto in un altro modo perché abbiamo determinati valori ma se è andata così vuol dire che è quello il modo più efficace per farlo fatto oggi abbiamo altri valori proprio grazie agli incontri con tante altre quindi ad oggi certo che probabilmente potremmo tutti ripensare ma questo è lo scopo le cose che quando accadono sono esattamente così devono accadere esattamente nel modo in cui accadono possiamo imparare delle cose possiamo migliorare sì certo questo è lo scopo perché se c'è un insegnamento il karma non è circolare il karma è va spirale quindi alcuni schemi si ripetono ma ci possono sempre essere migliorabili possiamo sempre vederli da una prospettiva più alta questo dovrebbe essere l'insegnamento quindi alcune situazioni tornano ritornano c'è una cosa certa la vita è il movimento è il cambiamento quando siamo in grado di adattarci a cambiare l'espansione l'obiettivo alla fine sarà quello di essere un'unica umanità ricca di tutte le sue diversità miliardi di interpretazioni diverse di un'unica vita pensavo in una dimensione più piccola mi è venuta in mente già dalla risposta di quella kahuna non so perché mi è venuta in mente mia nonna che a questo punto era una kahuna inconsapevole e che mi raccontava per esempio della guerra ovviamente non è la stessa cosa mi rendo conto però comunque si tratta di un avvenimento che riguarda una popolazione se vogliamo così dire o comunque più nazioni e che mette effettivamente in crisi tutto un sistema lei non è che avesse mai elargito con me dei grandi insegnamenti mettendosi in cattedra ma insomma adesso metto insieme un po' diversi discorsi che lei faceva e da cui trago insegnamenti quindi per tornare alla nostra cultura più popolare che sicuramente comunque nasconde delle grosse verità cui ognuno di noi può anche attingere e comunque diceva e lì ritrovo il discorso che avete fatto voi prima che guarda caso anche la guerra e parlo della seconda nel suo caso è arrivata dopo un periodo di grande benessere quindi dicevo è facile così quando si stava tutti bene ci vuole miseria diceva lei ci vuole miseria perché nella miseria capisci come rispondere e lì viene fuori il tuo vero valore insomma questo era un po' il succo però effettivamente e noi già in altre occasioni ci chiedevamo ma ancora prima che arrivassero questi tempi un po' difficili anche per questa nostra generazione dove sembrava impensabile fare certi discorsi è possibile diceva Rudy che quando si parla di guerra sembra sempre una cosa che abbia distrutto tutto il mondo però in realtà c'è chi è sopravvissuto c'è chi ha certe stragi è sopravvissuto anche avendole vissute e quelle persone lì cioè che cavolo hanno fatto non è che sono stati miracolati o fortunati ma probabilmente ci sarà un motivo per cui ce l'hanno fatta e chissà che esperienza ne hanno ricavato chissà che esperienza hanno fatto prima per riuscire a sopravvivere a questa cosa e poi ancora a portarne avanti appunto un qualcosa di pratico da poter condividere con gli altri e io credo un po' questo cioè il fatto di essere toccato più o meno da vicino da un grosso evento e poterlo vivere e riposizionando quelli che sono veramente i tuoi valori e le tue priorità e capendo poi come raddrizzare il tiro se vedi che ti stai un po' perdendo parlo sia come individuo che eventualmente come nazione quindi tutto il discorso che è stato fatto prima dopo un periodo di splendore c'è un certo decadimento ed è in quel momento lì che probabilmente un po' come nel corpo umano quando sei un po' carente di energie si abbassano le difese e lì è ovvio che ti intacca di tutto di più ma non è che te lo sei attratto o meglio sì mentre ti stai muovendo ti stai muovendo in una certa condizione e laddove fino a prima potevi essere più forte e robusto per contrastare in un certo modo determinati accadimenti poi non lo sei più e in qualche modo vieni toccato da questa cosa però nel momento in cui attraversi questa difficoltà quello che ne ricavi da questa difficoltà è come decidi poi di uscirne e di andare avanti e qual è il tesoro nascosto un po' come hanno fatto gli hawaiani l'ovuna il nascondere le cose gli insegnamenti più preziosi e questi perdurano nell'arco dei millenni se vogliamo e ogni cultura ce li ha e alla fine quelle quattro cose sono dette in hawaiano dette in tibetano dette in friulano sono le stesse identiche cose però siamo un po' duri di comprendonio e non ce lo facciamo cioè riuscire a fare una scelta diversa e non giudicare quello che capita se è giusto o sbagliato se è buono o cattivo ma semplicemente è quello che è e cosa me ne faccio io di quello che mi sta accadendo come posso uscirne io vivo quella è la grande risposta che sono tenuta a dare secondo me quindi sì qui era ovviamente la domanda specifica per quanto riguarda gli hawaiani ma secondo me nessuno di noi è intoccabile davanti a questo cioè riguarda veramente tutti qualsiasi tipo di cultura qualsiasi tipo di tradizione certo perché poi anche quando queste cose accadono accadono proprio a mio avviso per permetterci di tirare fuori quegli artigli e quelle capacità e quella possibilità di comprenderci cosa che altrimenti non saremmo stimolati a fare e anche lì capire cosa tenere e cosa no anche a livello di insegnamenti cioè quello che funziona e quello che non funziona quello che può essere ripetibile veramente al di là di tempo e di spazio a qualsiasi longitudine ma in qualsiasi epoca anche che deve evolvere così come evolvono i tempi così come cambiano le persone certo assolutamente questo è questo è basilare gli insegnamenti di mille anni fa possono essere anche interessanti ma se non sono attualizzati non ci servono esatto grazie a tutti grazie a tutti